ciao a tutti e bentornati nel mio canale avevamo lasciato i nostri moderni giulietta e romeo nei pressi della jacuzzi ingrifati come due mufloni mentre il secondo video quello intitolato il primo giorno di vacanza eccetera eccetera inizia in una maniera molto più tranquilla con una persistente inquadratura su un lettino ricoperto da un telomare manca a dirlo di allocchitti e appena finito l'elogio alla bellezza di questo telomare preso con i punti dell'esse lunga eccoli i nostri romeo e giulietta che senza troppi mezzi termini rivelano la località che li sta ospitando e cioè visertella segue una panoramica della spiaggia deserta o quasi poi c'è uno pieno di tatuaggi che ride a no e davide una suggestiva inquadratura della loro postazione spiaggesca e cioè appena dietro al vc di fortuna allestito sulla spiaggia messo su così un po alla buona però adesso mi fanno notare che potrebbe essere non il vc ma la postazione del bagnino chiedo scusa signor bagnino quindi tutto bello bella la spiaggia bello il mare bello il lettino bello il tello di allocchitti ma bello soprattutto il toast al prosciutto e formaggio vittima delle fauci di chiara e quindi in questa occasione prende parola davide nel frattempo che lei si lavora questo toast ma appena davide prende parola inizia a raccontare questi sentimenti che stanno imperversando nel suo io più profondo viene interrotto da una voce femminile credo che sia l'animatrice della spiaggia che rompe nella vita dei due vacanzieri invitandoli ad una serata di giochi con titolo uomini contro donne a parte la scarsa originalità dell'evento chiara chiede ma in cosa consiste e lei risponde nell'indovinare un film una canzone sempre peggio invito non viene né accettato né rifiutato la tipa intuisce e si dilegua praticamente che deve fare ma riprendiamo il racconto primo giorno di mare quindi trascorre tra un bagno di sole un bagno di mare sono riusciti anche a fare shopping da uno di quei venditori ambulanti che fanno tutto il giorno su e giù sulle spiagge il bottino un vero affare due borse per 30 euro quindi la prima giornata di mare è andata il bagnetto l'abbiamo fatto il tosse l'abbiamo mangiato e si ritorna verso l'albergo tra le altre cose ci mostrano che hanno il parcheggio riservato perché ma che domande perché occupano una suite ora al di là della suite si rimettono in auto con meta la conad non lo so forse penso male ma credo che a sto giro non c'è la possibilità di rifornirsi al buffet dell'hotel anche perché per chi ha fatto attenzione nel mentre hanno preparato le valigie mancavano tutti quei sacchetti per gli alimenti che avevano portato la volta scorsa e qui con mia grande meraviglia manca la clip del loro arrivo alla conad con relativi acquisti e passiamo invece subito a chiara che ci mostra tutti i cambiamenti avvenuti all'hotel palos al mitico hotel palos sono spariti dei dondoli sostituiti da insidiosi divanetti ergonomici e siamo in auto lo status è rosso peperone per chiara e super tatuato per davide qui c'è un piccolo salto temporale perché chiara si è dimenticata di chiudere il vlog e praticamente continua con il risveglio del mattino dopo con lei che ci mostra ancora una volta la panoramica di questo bellissimo terrazzo di nuovo la jacuzzi gioca un po con questa tenda che la tira avanti la tira indietro la tira avanti la tira indietro e dato che ci siamo tiriamo giù anche la tenda che ci ripara dai paparazzi e da lì corre in camera chiara c'è davide ancora a letto tutto assonnato che lotta per tenersi sulle lenzuola ma vince chiara perché perché c'è da andare giù a fare la colazione cappuccino spremuta e brioche per chiara mentre per davide un tristissimo caffè e ora che si fa si va al mare ma certo che no ci si fa piuttosto un giretto al negozietto di tutto un euro e qui parte la mega carrellata su tutti i prodotti tra cui cammelli dalle selle vario pinte spazzole a forma di labbra stile alba parietti penne multicolor collanine di plasticaia tipo lavoretti di terzo elementare mal riusciti soggetti vari cuore stelle lo so non ci crederete mai ma ci sono pure i braccialetti abbinati mi sa che qui facciamo un bel po di regalini in ricordo della vacanza mostra di acquistica effettuato presso questo negozio e anzi c'è un salto logistico perché dal negozietto di tutto un euro siamo adesso in camera lei seduta sul letto che sta un po a giustificarsi con gli utenti per il fatto che non stanno facendo tante riprese perché stanno tendendo più a godersi quella che è questa vacanza romantica bene e questo è stato un po un riassunto di quello che è stato il vlog del primo giorno di vacanza il loro video è finito e di conseguenza si conclude anche il mio io vi do appuntamento al prossimo contenuto vi auguro buona continuazione di giornata un bacio a tutti da gossip io vi do appuntamento al prossimo contenuto